Approfondiamo il tema della privacy nella didattica digitale integrata. L'esperienza di riorganizzazione improvvisa e con grande dinamicità che ha dimostrato la scuola nel corso dell'anno scolastico 19-20 per far fronte alla necessità di riorganizzare l'attività didattica attraverso gli strumenti a distanza a causa del lockdown, ha dimostrato però anche una serie di aspetti, cioè ha palesato il divario digitale ancora esistente nel nostro paese, le problematiche di connettività e di infrastrutture di connettività appunto esistenti e diverse realtà di povertà educativa. Le situazioni infatti che si sono palesate sono state molto variegate e diverse, prima nella didattica a distanza e poi nella didattica digitale integrata che è entrata in vigore invece dall'anno scolastico 20-21. Situazioni che non sono mai capitate prima ed è per questo che sono nati anche molti quesiti e molti dubbi e perplessità in particolare sul tema della privacy, tema molto delicato. Si entra nelle case degli studenti ma si entra anche a casa dei docenti. Pertanto alcune domande palesi e spontanee che sono venute sono come è possibile evitare delle indagini sulla sfera privata senza andare a ledere la libertà di insegnamento e garantire comunque la continuità di un intervento didattico? Come gestire i nomi e cognomi degli studenti? Sono temi coperti da privacy? Lo studente sulla piattaforma, se indica la scuola come sede, può essere considerata una forma di profilazione? Una forma di geolocalizzazione? Se gli alunni sono minorenni, come mi devo comportare per utilizzare queste piattaforme? Possono registrarsi gli alunni attraverso degli avatar o dei nickname? Come sono raccolti, costuditi e gestiti i dati raccolti dalle piattaforme che noi utilizziamo? Il docente può raccogliere le mail degli studenti per poter mandare il link delle esperienze e dell'attività didattica? E potremmo continuare con i quesiti. Cerchiamo piuttosto di trovare alcuni punti fermi ed alcune risposte a delle domande centrali e per farlo abbiamo bisogno innanzitutto di prendere dei riferimenti legislativi. Il primo riferimento centrale per il mondo della scuola è la nota MIUR sulla didattica a distanza del 17 marzo del 2020, che è stata la prima nota che è stata emessa in occasione dell'utilizzo di questo canale. In secondo luogo si è espresso il garante della privacy sulla didattica a distanza attraverso la nota 64 del 26 di marzo del 2020, che ha ripreso molti aspetti della nota del Ministero calandoli nel contesto proprio del tema privacy. Infine, documento centrale è il Regolamento generale sulla protezione dei dati, che è meglio noto come GDPR, che è stato approvato da parte dell'Unione Europea con il Regolamento 679 del 2018, che è la cosiddetta GDPR. Cerchiamo allora di individuare due aspetti in particolare, di approfondire due aspetti. Il primo sono i punti fermi che ci servono per fare chiarezza. Il secondo sono i ruoli e le responsabilità. Innanzitutto è importante partire da un principio, che è quello della responsabilizzazione, nell'espressione anglosassone dell'accountability. È un'espressione che mette al centro il tema proprio della responsabilizzazione del titolare del trattamento, tema che diventa centrale in particolare ed enfatizzato in particolare dal regolamento della GDPR. Partiamo allora. I punti fermi. Allora il primo punto fermo è che cosa definisce il Ministero come didattica a distanza. Precisamente alla pagina 3 delle prime indicazioni che ha fornito il 17 di marzo scorso, ha detto che si tratta pur sempre di un'attività che dia vita ad un ambiente di apprendimento. Infatti precisa come si tratti di collegamento diretto o indiretto, immediato o differito, attraverso videoconferenza, videolezione, trasmissione ragionata di materiali didattici attraverso il caricamento degli stessi su piattaforme digitali e l'impiego di registri di classe in tutte le loro funzioni di comunicazione e di supporto all'attività didattica. Con successiva rielaborazione e discussione operata, direttamente o indirettamente, con le docenti. L'interazione sui sistemi e le app interattive educative deve essere considerato didattica a distanza. Mi è piaciuto andare a prendere direttamente il testo perché, come in altre occasioni avete visto, è fondamentale andare a leggere i riferimenti appunto normativi, ma in particolare i testi specifici. E quindi il ministero dice questa che io ti ho elencato può essere considerata attività di didattica a distanza. Cosa invece non va considerato attività didattica a distanza? Il solo invio di materiali e la mia rassegnazione di compiti, non preceduti da spiegazioni, che non prevedono un intervento successivo di chiarimento e di restituzione da parte del docente. Tutte queste modalità che non si possono considerare didattica a distanza dovranno essere abbandonate perché prive di elementi che possono stimolare e suscitare apprendimento. Quindi il primo punto fermo è come il ministero ha classificato che cosa sia e cosa non sia didattica a distanza. Sempre il ministero, nelle prime indicazioni che ha fornito nella nota che vi dicevo prima del marzo 2017, ma anche riprese dalle prime istruzioni del garante della privacy, ha precisato che cosa si intenda col tema privacy. E nel caso della nota del ministero ci riferiamo alle pagine 3 e 4. Infatti si dice che le istituzioni scolastiche non devono richiedere il consenso per effettuare il trattamento dei dati personali nella didattica a distanza. Perché? Perché questo consenso al trattamento dei dati è già avvenuto all'atto dell'iscrizione. Quando le famiglie hanno iscritto gli alunni e hanno sottoscritto anche il patto educativo di corresponsabilità devono necessariamente avere sottoscritto anche un consenso al trattamento dei dati che sono gestiti dall'istituzione scolastica. Tutti quei dati che sono connessi logicamente allo svolgimento del compito istituzionale della scuola, quale è la didattica, sia essa in presenza o a distanza, quindi o nell'ambito fisico della classe o virtuale. Altro punto fermo molto importante che è sempre relativo alla nota che vi citavo prima del 17 di marzo alla pagina 4 ed è ampiamente preso anche dal regolamento della GDPR agli articoli 13 e 14 ed è ripreso anche dalle prime indicazioni del garante è come debba avvenire l'informativa nei confronti delle famiglie e degli studenti per quanto riguarda il trattamento dei dati. Infatti si dice che i dati personali vanno trattati in modo lecito, corretto, trasparente e raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, che quindi per la scuola devono essere esclusivamente finalità educative e didattiche. Si deve evitare qualsiasi forma di profilazione, diffusione e comunicazione di dati personali che non siano riconducibili all'esperienza della scuola, quindi al ruolo della scuola. E inoltre va garantita la protezione mediante misure tecniche ed organizzative adeguate. Infatti vedremo poi come e quando, ma è importante che la scuola stipuli dei contratti o degli atti di individuazione dei responsabili del trattamento che permettano di condurre tutta questa attività di protezione dei dati in maniera certa, responsabile e corretta. Quando poi, a partire dall'anno scolastico 2021, si è reso necessario riorganizzare l'attività di didattica a distanza con la didattica digitale integrata, si è chiamato in causa il ruolo centrale degli organi collegiali, quegli organismi partecipativi della scuola che dovevano elaborare e devono elaborare il regolamento della didattica digitale e all'interno di esso indicare tutte le scelte che sono state operate per garantire l'attività didattica o totalmente a distanza o parzialmente a distanza combinandola con quella in presenza. Quindi il medesimo testo della nota di marzo ripreso dai testi successivi delle prime indicazioni del 2021 ha spiegato come la riprogettazione dell'attività didattica debba essere condotta dal consiglio di classe e dai dipartimenti, si debbano rimodulare gli obiettivi formativi in base alle nuove esigenze, si debba procedere con una riprogettazione individuale, bisogna prestare particolare attenzione ad evitare che ci siano delle sovrapposizioni nell'assegnazione dei compiti e dei lavori a casa perché se soprattutto ci troviamo tutti impegnati in una modalità a distanza diventa difficile avere anche occasioni di incontro e di confronto quindi si rischia di caricare eccessivamente gli studenti di lavoro a casa senza avere un coordinamento. Infine precisa come bisogna prestare particolare attenzione alle situazioni di alunni diversamente abili, di alunni con bisogni educativi speciali o con disturbi specifici di apprendimento e si cita come centrale il ruolo della valutazione, una valutazione che come abbiamo detto anche in altre occasioni debba essere una valutazione diffusa, formativa e formatrice. Veniamo allora al secondo punto, i ruoli e le responsabilità. Qui il principale riferimento sono le indicazioni del regolamento della GDPR perché si spiega chiaramente quali siano i rispettivi, le rispettive figure di riferimento, quali responsabilità abbiano e quali sono i riferimenti. Ma accanto adesso abbiamo anche le indicazioni generali della didattica digitale e della tutela della privacy che sono state elaborate da un gruppo di lavoro composto dal ministero e dal garante dell'ufficio del garante della privacy e che sono state emesse a giugno 2020. Le figure che analizzeremo sono cinque. Prima di tutto il titolare del trattamento che possiamo definire sia la persona centrale e si definisce la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, servizio o altro organismo che singolarmente o insieme ad altri determina la finalità e i mezzi di trattamento dei dati personali. Quindi nel nostro caso è l'istituzione scolastica che è rappresentata dal dirigente. Quindi il titolare del trattamento è il dirigente scolastico che deve naturalmente individuare e determinare quali siano le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali. La seconda figura è definita responsabile della protezione dei dati, RPD, oppure Data Protection Officer, come lo definisce il regolamento della GDPR, quindi rispettivamente gli acronimi RPD o DPU. Questa figura è un soggetto che assicura l'applicazione del quadro normativo vigente in materia di protezione dei dati personali nell'ambito del trattamento dei dati da parte del titolare. Quindi possiamo dire che è a supporto del titolare del trattamento per garantire la corretta applicazione di quanto prevede la norma e soprattutto supportare il titolare del trattamento per essere sicuro di non incorrere in violazioni o in errori nel trattamento dei dati. Pertanto questa figura nel caso della scuola è a supporto del titolare che è il dirigente scolastico e può essere o una figura interna o una figura esterna. L'importante è che, data la delicatezza del tema, che ha notevole responsabilità e risvolti civili e penali, debba essere una figura che ha un'adeguata e certificata preparazione professionale per ricoprire questo ruolo. Nel caso della scuola è capitato che alcune scuole si siano convenzionate e abbiano individuato il medesimo RPD o DPO esterno all'istituzione scolastica. Quindi è una figura centrale per supportare il titolare nel suo ruolo di tutela. Abbiamo poi i cosiddetti presidi privacy che sono possibili presidi all'interno della struttura del titolare del trattamento per supportare lo svolgimento degli adempimenti della privacy che sono diventati diciamo così abbastanza pesanti e di notevole impegno relativi a ciascuna area soprattutto per attuare quelle operazioni particolarmente complesse. Quindi possiamo dire che sono a coordinamento ed aiuto e supporto del titolare del trattamento per garantire tutti gli adempimenti. Chiaramente la norma e quindi in particolare il regolamento della GDPR riguarda tutti i settori quindi non identifica delle figure ben precise. Li chiama soltanto presidi privacy. Nel caso della scuola noi possiamo riconoscere come queste figure di presidi privacy così come vengono richiamate anche dalle prime indicazioni della didattica digitale del marzo 2020 l'animatore digitale e i componenti del team dell'innovazione. Permettetemi una battuta che durante la didattica a distanza ahimè si è palesata in maniera frequente l'animatore digitale non è l'assistente tecnico di laboratorio che deve sistemare i computer. Il suo ruolo è in particolare un ruolo di stimolo educativo e didattico e che nel caso dell'applicazione della norma sulla tutela della privacy deve essere a supporto per garantire l'adeguamento di tutti quegli adempimenti indispensabili. Poi abbiamo la quarta figura che sono le persone autorizzate al trattamento autorizzate da chi? Logicamente dal titolare che è colui che detiene appunto questo ruolo di autorizzazione e quindi sono quelle persone che effettuano operazione di trattamento dei dati personali sotto l'autorità del titolare del trattamento e sulla base delle istruzioni che queste ho fornito loro. Pertanto chi sono? Sono tutti i dipendenti quindi tutto il personale della scuola sia personale docente che personale ATA che nel momento in cui debbano trattare dei dati devono essere autorizzati dal dirigente che abbiamo visto essere il titolare e autorizzati secondo ben precise indicazioni e istruzioni. Infine abbiamo il responsabile del trattamento. Questa figura è definita come soggetti terzi che trattano i dati per conto del titolare mettendo in atto misure di sicurezza adeguate di tipo tecnico ed organizzativo. Pertanto possiamo identificarle in coloro che forniscono le piattaforme per la didattica a distanza o la didattica digitale integrata. Quindi devono innanzitutto garantire il rispetto dei principi della privacy. Devono avere un rapporto col titolare che deve essere necessariamente contrattualizzato perché all'interno di questo contratto deve essere scritto nero su bianco come vengano trattati i dati, come vengono raccolti, come vengono conservati e che uso se ne fa. Pertanto tutto quel approfondimento che abbiamo fatto nella prima parte relativamente al trattamento di dati in maniera lecita, corretta, trasparente, evitando profilazione e diffusione o utilizzo di dati per scopi diversi rispetto a quelli della scuola che in questo caso sono scopi di natura educativa e didattica. Detto questo pertanto emerge chiaramente come sia fondamentale trovare risposta ad altri elementi e quesiti che sono sorti appunto con l'utilizzo di questa strumentazione. Prima di tutto che il titolare del trattamento non può procedere con un controllo nei confronti dei dipendenti perché questo andrebbe a ledere la libertà di insegnamento e quindi non è possibile che il titolare del trattamento si colleghi per verificare se il docente fa lezione piuttosto che come conduce la sua lezione in modalità a distanza. Per il semplice motivo che questo va a ledere un altro principio piuttosto bisognerebbe aprire un argomento diverso e trattarlo in un altro contesto. L'altro aspetto di fondamentale importanza che viene richiamato anche dalle norme in particolare nelle indicazioni generali del giugno 2020 a pagina 3 ma anche degli articoli 13 e 14 del regolamento della GPDR è fornire un'adeguata informativa in questo caso a chi? Sicuramente alle famiglie e agli studenti cioè a tutti gli interessati al trattamento dei dati attraverso l'erogazione dell'offerta formativa. E cosa dice la norma? Dice che questa informativa deve essere fornita in forma sintetica con un linguaggio facilmente comprensibile anche dai minori. Quindi bisogna specificare i tipi di dati che vengono raccolti, la modalità di trattamento, di conservazione e le altre operazioni di trattamento. E soprattutto mette in evidenza come va esclusa per l'attività di didattica digitale integrata qualsiasi forma di profilazione soprattutto vanno garantiti i medesimi presupposti e le medesime garanzie che vengono garantite all'atto dell'iscrizione con la didattica in presenza e quindi la didattica tradizionale. Pertanto prendendo un particolare spunto da questi ultimi temi cioè quello del controllo e dipendente in particolare dell'informativa è chiaro che il tema che abbiamo affrontato non è un tema di facile lettura e soprattutto molto accattivante che anzi frequentemente viene appesantito dal punto di vista burocratico. Ma tenendo conto che si tratta comunque di un obbligo quindi di un diritto dovere se vogliamo il rispetto di questa privacy potremmo trasformare l'approfondimento di questo tema anche con i nostri studenti come un'occasione per riflettere sull'utilizzo degli strumenti digitali e in particolare sulla protezione dei dati che rientra se vogliamo in quella formazione alla cittadinanza che si estende alla cittadinanza digitale. E allora se vogliamo una riflessione conclusiva dal punto di vista didattico mi vengono spontanei due spunti. Il primo è la legge 92 del 2019 che ha reintrodotto l'insegnamento di educazione civica. Quale buona occasione se non la reintroduzione dell'educazione civica per offrire uno spunto attorno al tema della cittadinanza digitale e quindi approfondire con i nostri studenti quello che è la tutela, la conservazione, la protezione di questi dati. E dall'altro un tema condiviso dal punto di vista educativo con le famiglie che è quanto previsto dal patto educativo di corresponsabilità quindi in virtù del DPR 235 del 2007. All'atto dell'iscrizione le famiglie sottoscrivono un patto educativo di corresponsabilità perché non sfruttare l'occasione di discutere o presentare questo patto educativo per aprire un confronto dal punto di vista educativo sui temi della protezione dei dati e in particolare della cittadinanza digitale che ci riguardano come docenti nei confronti dei nostri studenti ma come genitori nei confronti dei nostri figli.